Buonasera Senatore Crimi. Buonasera Senatore Crimi, alle regionali correrete col PD o presenterete dei vostri candidati? È possibile, è possibile. Possibile cosa? Cosa? Possibile cosa, cioè lei non sa se correrete col PD o presenterete dei vostri candidati? Sa mica cosa vuole fare Grillo? Beh sì, si sa, Grillo vuole continuare l'alleanza col PD. Vuole continuare? Sì, vuole continuare. Sa mica cosa vuole fare Di Battista? No, sì, Di Battista no, lui vorrebbe non fare l'alleanza col PD. Ah, non fare? Eh, eh. Sa mica cosa voglio fare io? Ma ce lo deve dire lei, cosa vuole fare lei? Non lo sa. Ma come non lo sa? Perché io di mio direi che è arrivato il tempo di tornare ad arrare. A arrare? Prima, naturalmente bisogna seminare e poi tornare ad arrare. No, a parte che è il contrario, prima si ara e poi si semina. Ah, prima si arra? Eh sì, e poi si semina. E per quello che non mi è mai cresciuta una beata fava. Può essere sì. Che è proprio il simbolo del Movimento 5 Stelle. No, guardi, non mi risulta che la fava... Non mi risulta che la fava insieme ad arrare, pescare, risciacquo, centrifuga. Cosa stai dicendo? Sono i 5 simboli, sono i 5 simboli dei 5 Stelle. No, ma lei non sa i simboli dei 5 Stelle? Non li so. Non li sa. Però guardi che lei è una figura storica del Movimento, ha fatto lo streaming con Bersani. Eh, è vero, storicamente ha fatto la prima figura di merda. No, non esageri adesso, su. Beh, sì, quella volta hanno tolto lo streaming, come lo interpreta lei. Beh, in effetti insomma. Dovevo tornare ad arrare, naturalmente prima seminare. No, 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 prima si ara e poi si semina. Eh, è vero, prima si semina e poi si ara. Ecco, se lo ricordi. Senta, invece, quando ci saranno gli stati generali dei 5 Stelle? Non lo so. Non lo sa? Però i 5 Stelle continueranno a dare la fiducia a Conte. Questo penso che non lo so. Non so neanche quello. Ma come fa a non sapere niente? Perché Crozza non era in onda, se non è in onda Crozza. Cosa c'è tra Crozza? È perché mi informo guardando Crozza. Ah sì? A lei guarda Crozza e si informa? Pensi che ora so tutto sul governo Prodi e su Katzenger? Il governo Prodi e Katzenger? Sì, perché ho visto una replica del 2008. Eh, ma così... Eh, lo so, ma lì per lì non me ne ero accorta. No, però scusi, siamo nel 2020, Crimi. Appunto, questa è la prima puntata di Crozza del 2020? Sì, sì, questa è la prima del 2020. Allora, facciamo così. La guarda, mi informa e domani la chiama. Ah, quindi ci sentiamo domani? Non lo so. Non lo so. Però scusi una cosa, lei in passato ha votato per i Verdi, per Rifondazione, per Di Pietro, per Alleanza Nazionale e per l'Ulivo. Eh, è forrano, no? No, perché io sono come i Cinque Stelle, siamo uguali. Cioè? Perché noi viviamo come dentro un enorme film porno. In che senso, scusi? Ci infiliamo nel primo buco che troviamo. No, però così rischiate di scomparire. Ma per fortuna che io, che ho il doppio lavoro. E quale sarebbe l'altro? Io veramente faccio il doppiatore di Lisa D'Essenton. È vero, è uguale. Ma metto solo la voce, perché i contenuti non li so. Aspetta che sia in onda Crozza. Aspetta Crozza. Ah, rara.